Antonelli, l'amministrazione comunale punta sempre più anche su eventi culturali, ma punta anche molto sull'Aurum? Assolutamente sì, è un luogo che questa amministrazione, ma insomma parallelamente a quanto accaduto in passato, tende a valorizzare. Mi pare che l'iniziativa dell'assessore alla cultura Carota, della neoassessore, vada proprio in questa direzione ed è un bellissimo segnale di valorizzazione dell'Aurum come patrimonio della città adriatica ed è anche la dimostrazione che si può far bene spendendo poco. E in questi tempi un'amministrazione pubblica che realizza molti eventi, non facendo gravare tutto questo sulle tasche dei cittadini, credo che sia veramente un bellissimo segnale e quindi devo dare atto all'assessore Carota di aver fatto un ottimo lavoro che andrà a concretizzarsi proprio nel corso dei mesi estivi. Quest'anno inauguriamo una rassegna contenitore che abbiamo deciso di denominare Cultura Aurum che parte dal 19 di giugno e finirà alla fine del mese di settembre e raccoglierà le migliori espressioni locali, ma anche regionali e nazionali di cultura sotto tutte le varie espressioni. Ospiteremo presentazioni di libri, ospiteremo dei concerti, delle rassegne storiche per la città di Pescara, ci saranno delle mostre, concerti vari, insomma c'è un po' di tutto e soprattutto per tutte le fasce d'Ità e per tutti coloro che verranno anche in visita nella città di Pescara perché è un calendario culturale e importante anche per la promozione della città. Devo dire che l'assessore Marietta Carota ci ha creduto molto, ci abbiamo investito più che altro in energie e siamo riusciti veramente a comporre un contenitore straordinario per la città con figure importanti da Sgarbia, Vincenzo Olivieri, Aditonno, Maurizio Di Fulvio, insomma poi abbiamo libri da presentare, veramente un contenitore straordinario per cui dal 19 di giugno al 21 settembre i pescaresi continueranno ad avere nell'Avrum un punto di riferimento alla cultura cittadina.